Vuoi sapere cos'è un progetto o ti serve una mano per crearlo? In questo video ti spiego per cosa può esserti utile e come gestirlo. Un progetto è un gruppo di servizi che puoi gestire come un'unica entità. Puoi aggiungere o rimuovere servizi dai progetti, rinnovarli tutti insieme e altro ancora. Per creare un progetto non ti resta che cliccare Crea progetto. Puoi creare un progetto per tutti i servizi di una sede della tua azienda o crearne uno per ciascuno dei tuoi clienti. Scegli il nome, seleziona i servizi e clicca il pulsante in fondo. Ecco fatto! Se vuoi crearne un altro, clicca Crea nuovo progetto, altrimenti clicca Gestisci. Sei nella scheda del progetto. Non ti serve più il firewall? Nessun problema! Vai nel suo box e clicca Rimuovi dal progetto e poi conferma con Rimuovi. Non lo hai disdetto? Resterà attivo fino alla scadenza. Lo potrai rinnovare dalla sezione I tuoi servizi. Siccome a me il firewall serve, lo aggiungo nuovamente dalla sezione I tuoi servizi. Lo seleziono, clicco Aggiungi a progetto, scelgo il progetto dal menu a tendina e clicco Aggiungi servizi. Se torni alla pagina del progetto, puoi rinominarlo, eliminarlo o attivare il rinnovo automatico, per non preoccuparti più della scadenza, scegliendo tu la frequenza di rinnovo. Chiaramente, quando attivi il rinnovo automatico per il progetto, lo attivi per ognuno dei singoli servizi che lo compongono. Se invece ti occorre, dal progetto puoi anche rinnovare subito tutto. Grazie. Grazie.